Risolto almeno per il momento il problema della copertura della fascia oraria dei traghetti dalle 8 alle 9 sembra coperto il buco che si era verificato per il cambiamento di orario di Mobi a marzo e soprattutto per l'interruzione del servizio di Aliscafo Toremar. Nel corso della riunione che si è svolta a Piombino tra le compagnie di navigazione e l'autorità di Piombino e dell'Elba è stato assicurato da parte di Toremal il rientro del mezzo veloce per oggi. Invece la modifica operata da Mobi riguarda solo il mese di marzo e anche secondo l'autorità portuale appare inopportuna una modifica limitata a questo periodo e in concomitanza di orari con il mezzo della compagnia pubblica. Dalla primo di aprile riprende comunque la programmazione Mobi con la corsa auspicata dai pendolari. Sul tavolo anche la recente richiesta di Roberto Marini capogruppo di gente comune e presidente provinciale dell'Udc che ha sottolineato l'importanza per i pendolari albani di una corsa mattutina prima delle sette. Abbiamo verificato, spiega il presidente dell'autorità portuale Luciano Guerrieri, che la fascia oraria risulta coperta con la corsa di Mobi dalle sei che pur con un limite di carico due giorni alla settimana permette di giungere a Piombino nei tempi segnalati. Comunque, continua l'autorità portuale, anche questa questione risulterà meglio risolta, oltre che dal ritorno in servizio dell'aliscafo anche con partenze più adeguate dal primo d'aprile, sia da Piombino alle sei, sei e quaranta e alle otto, che da Portoferraio alle sei, alle sei e trenta e alle sette e trenta, senza alcuna limitazione rispettivamente con navi delle due compagnie. A queste si aggiungono le partenze effettuate da Eperio Marine Cavo. In prospettiva, continua Guerrieri, il problema andrà meglio ripreso, specie per la prossima stagione invernale, a seguito dei risultati della cessione Toremar e del contratto di servizio con il quale la Regione vorrà assicurare d'intesa con l'autorità portuale una migliore copertura del servizio, in particolare per le fasce di orario disagiate e per l'utenza dei lavoratori pendolari.